Le scuole di Piedimonte Matese di ogni ordine e grado sono state le protagoniste di una interessante giornata organizzata da Coldiretti e le campiende comune di Piedimonte Matese, Gall e Parco regionale del Matese. L'incontro, che si è svolto a Piazza Cappello, nel cuore della città, ha visto impegnati attivamente i ragazzi in una serie di percorsi didattici, sia per studenti delle scuole primarie che per gli istituti superiori. Le finalità dell'evento ce le spiega così la dirigente scolastica del liceo Galilei di Piedimonte Matese, Bernarda De Girolamo. Oggi siamo tutti qui con le scuole, con Legambiente, con la Coldiretti, per avviare un percorso di educazione ambientale ma soprattutto di coscienza ambientale delle opportunità che il nostro territorio può offrire a tutte le giovani generazioni. Noi abbiamo un territorio meraviglioso e può essere valorizzato questo territorio solo se facciamo rete, se facciamo sistema tutti insieme. Oggi con la Coldiretti, con il GAL, con le scuole del territorio e con la Legambiente vogliamo proprio educare soprattutto le nuove generazioni ad apprezzare quanto di bello e di buono c'è sul nostro territorio a partire dai percorsi sensoriali organizzati grazie alla collaborazione di Coldiretti, percorsi sensoriali riservati ai bambini delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie, che devono riscoprire il gusto, il vero gusto, il sapore delle cose buone della nostra terra. Preside, qual è il grado di interesse che ha trovato invece negli studenti per una manifestazione come questa? Io ho trovato gli studenti molto propositivi, soprattutto gli studenti delle scuole superiori, anche perché con le attività di alternanza scuola-lavoro che si stanno portando avanti all'interno degli istituti di secondo grado, io insieme agli altri dirigenti degli istituti di secondo grado stiamo valorizzando tantissimo il nostro territorio, proponendo delle attività e dei percorsi di formazione al lavoro legati al nostro territorio, allo sviluppo sostenibile del nostro territorio, che è l'unico sviluppo possibile, perché se ci guardiamo intorno, nel 2030 ci sono previsioni che oltre il 60% della popolazione abiterà i centri urbani, le grandi città. Le grandi città saranno invivibili fra dieci anni e noi dobbiamo partire adesso per costruire dei percorsi, delle attività, dei lavori alternativi, perché non possiamo tutti trasferirci nelle città dove la qualità di vita sarà sicuramente, come lo è già adesso, non idonea per l'essere umano.